Agricoltura e innovazione si incontrano alla Fiera dell'Agricoltura di Santa Lucia di Piave, la millenaria manifestazione dedicata al settore primario che ogni anno apre nuove prospettive per il futuro del comparto. Tra gli espositori presenti nel quartiere feristico trevigiano a farla da padrone è la tecnologia, come nel caso del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, che nel proprio stand ha presentato Grass Killer, la idrozappa progettata per la salvaguardia dell'ambiente e dell'operatore agricolo. Un'attrezzatura per cui abbiamo l'assoluta esclusiva che uccide, dissecca le erbe infestanti sotto il filare in maniera particolare usando semplicemente la forza dell'acqua, quindi la pressione che arriva a 1300 atmosfere e va a seccare le infestanti. Dalla tutela dell'ambiente alla sicurezza alimentare, garanzia assoluta dei prodotti perfetti di latteria Soligo, promotrice del progetto Safety Pack, l'innovazione che rivoluziona il sistema del packaging e della produzione in linea dell'industria alimentare. Safety Pack è infatti una tecnologia adottata dalla cooperativa trevigiana nella linea di produzione di mozzarella all'interno dello stabilimento di fara di Soligo, che consente di monitorare e misurare precisamente il livello di gas all'interno dei contenitori alimentari sigillati in atmosfera modificata. Attraverso un sessore spettroscopico a laser si è in grado così di controllare l'atmosfera protettiva interna e l'integrità delle confezioni dell'intera linea di produzione, superando così il sistema del controllo a campione. Quando noi stiamo parlando di nostri prodotti, se non c'è la tradizione, partiamo di quello che i nostri casari hanno fatto ancora 30-50 anni fa, vorrei dire quando si parla di casatella si parla di altri prodotti di Soligo, hanno cent'anni di storia e anche di più i nostri prodotti, però la tecnologia aiuta tantissimo. Quando si sta parlando di tecnologia è la costante, la minor fatica e avere un prodotto più buono. Il buono passa anche da avere una buona tecnologia.